Come si vede io sto con la mascherina e quindi la fiera si terrama nel rigoroso rispetto delle regole che sono il distanziamento sociale, l'igienizzazione e le mascherine. Perché se siamo bravi a non riportare nelle relazioni internazionali il virus possiamo recuperare e diventare tra i primi paesi europei del mondo come paese Italia. La fiera è una delle opportunità che vogliamo dare non solo agli agricoltori di questa vallata perché ci sono due o tre momenti di riflessione sull'economia e il futuro dell'economia del dopo Covid e sui temi del melograno che è una produzione importante che la ritroveremo anche nella fiera e nell'esposizione che faremo nell'ultimo weekend di novembre-dicembre quando parleremo di tartufo, di olio extravergine d'oliva e di melograno. Quindi facciamo una riflessione anche sulla produzione del melograno nella fiera di Talacchio e poi una riflessione su questi maledetti insetti che danneggiano enormemente l'agricoltura. Poi ci sono momenti di divertimento, momenti di produzione e di riflessione dell'economia agricola e inoltre c'è una riflessione su una struttura di supporto all'agricoltura dell'intera vallata, dell'intera provincia e perché no delle marche nell'ex cantina sociale di Morciola insieme all'Università di Urbino, insieme all'Università di Ancona, insieme alle associazioni di categoria, insieme a Marche Multisiviste e il Consorso di Bonifica per far diventare l'ex cantina di Morciola una struttura di ricerca scientifica di cosa produrre e quale agricoltura oggi in questa vallata nelle marche e nel mondo e cercare di capire come dare più reddito ai giovani agricoltori che sono ritornati in agricoltura. Cioè cosa produrre e quanto produrre, quale qualità di prodotti, come l'agricoltura diventa un elemento di tutela della salute delle persone perché mangiare bene, dice un vecchio detto popolare, non vuol dire mangiare molto, vuol dire mangiare cose pregiate di grande qualità, come contenere l'inquinamento atmosferico perché uno degli obiettivi è anche quello in un'area, in una vallata di 200.000 abitanti dove l'agricoltura mantiene un ruolo e poi diciamo l'andamento dell'economia di tutti gli altri settori perché questo è un territorio fortemente industrializzato, fortemente diversificato dall'agricoltura alla metallomeccanica, alla lavorazione del mobile, alla lavorazione del vetro, alla refrigerazione e puntiamo anche attraverso queste riflessioni, questi due weekend e questi quattro giorni, abbiamo fatto quattro giorni anche perché pensiamo che il tempo non è detto che sta tutti i quattro giorni bello perché un conto era a giugno o a maggio quando l'abbiamo fatto in passato, un conto è fine settembre, primi di ottobre, ma siccome siamo fortunati probabilmente pensiamo di avere il tempo buono in questi quattro giorni. Quindi un evento importante, come detto all'inizio, nel rigoroso rispetto delle regole anti-Covid, perché noi vogliamo superare questa pandemia drammatica che ha messo in difficoltà l'economia e ha prodotto anche diversi casi mortali purtroppo, non solo da noi ma in tutto il mondo. Quindi quattro giorni di divertimento anche perché ci sono tre compagnie dialettali riproducendo le radici un po' delle vallate nostre di contadini che alla sera raccontavano le storie e quindi ci saranno dei momenti per i bambini, quindi saranno quattro giorni interessanti attorno alla struttura del comune che è la mensa e un punto di ristoro importante che sarà aperto e che diventerà interessante. Lì ci sono parcheggi infiniti per quelli che vengono da fuori, ci sono molte piante che anche se dovesse ancora far caldo uno può stare nell'ombra o può stare a respirare un po' d'aria buona perché in quei periodi le fabbriche saranno chiuse e poi non ci sono fabbriche inquinanti in quest'area. Quindi quattro giorni importanti invitiamo i cittadini, le comunità a partecipare. L'inaugurazione sarà sabato prossimo alle 17, il taglio del nastro. Ho invitato il nuovo Presidente della Giunta regionale, i consiglieri regionali eletti, quindi coinvolgiamo tutte le istituzioni a prescindere da chi sono di volta in volta governate.